Buongiorno, siete sul canale Pratiche Sartoriale alla Moda e oggi con voi sono io Pauschia Olga. Vorrei farvi vedere che bella blusa in chiffon di seta è stata realizzata nel nostro atelier. Il tessuto usato è un chiffon 100% seta in una bellissima fantasia floreale. La stoffa è di una grande qualità e come sempre è stato fatto un lavoro impeccabile. Il tessuto è leggermente elasticizzato, è ideale per chi ama il comfort e a me piace un sacco. Adesso ve la mostro da tutte le parti e vi parlerò un po' di questo modello. La pence seno è rimasta, solo che è stata spostata verso il fianco. Il modello ripete la base delle 10 misure, le pence vita sono state ignorate, i modelli in seta non devono essere troppo attilati, la pence pala è stata trasferita nel girocolo. Guardate che lavoro minuzioso è stato fatto. Nel centro davanti abbiamo la bottonatura e un piccolo volan. Il coletto è alla quereana, molto basso che avvolge bene il colo. Abbiamo un volan che è stato tagliato in sbiego e arricciato, inserito nella cucitura lungo la bottonatura e coletto che termina qui nel centro davanti. Questo effetto così sofisticato del volan è stato ottenuto grazie al talio in sbiego. qui abbiamo le asole dei bottoni molto belli ed eleganti. La manica è a giro, semplice con il fondo arricciato, con il filo elastico. Grazie a questa arricciatura si è formata una specie di volan anche qui. Il filo elastico è in silicone, molto morbido e non stringe il polso. L'orlo è stato rifinito con una cucitura all'inglese molto fine. L'orlo della camicia è semplicemente piegato. Vedete qui è fatto una cucitura a urlino. Qui è semplicemente piegato e tutte le cuciture che abbiamo, laterale, spalle e la manica sono state cucite con cucitura chiamata anche francese, inglese, francese, insomma, non so. Il giro manica è stato cucito con un punto dritto e dopo di che è rifinito in taglia a cuci per non creare spessori. Siccome il tessuto non è molto trasparente si può fare in questa maniera. Se si sceglie di rifinire con lo sbiego è probabile che qui si forma dello spessore inutile. La confezione di ogni capo è valutata in base al tipo del tessuto e alla richiesta del cliente. A Irina Michailovna non piaceva se il giro manica fosse rifinito con lo sbiego. Diceva che non è per niente confortevole che tira. Per questo motivo il giro manica veniva rifinito col tale cucibasta. Vi giro un'altra volta la blusa da tutte le parti perché non andremo a guardarla sul tavolo. Sul tavolo vi faccio vedere le stoffe che abbiamo nella nostra boutique e che potete prendere spunto per la realizzazione. Il tessuto è un semi trasparente che si può indossare tranquillamente con dell'intimo color carne. Si può anche indossare con un top sotto ma la stoffa non è molto trasparente. Adesso vi mostro i tessuti in chiffon presenti nella nostra boutique con quale potete realizzare una blusa del genere. Questo è il tessuto che è stato usato per la blusa. È l'originale. Non è la prima volta che mi accorgo che vedere il tessuto e un capo confezionato rende di più che vederlo su un rotolo. Sulla blusa i colori sembrano più vive e brillanti. Aiuta anche il volant e i bottoni. Visto così il rotolo sembra più spento. Siccome il tessuto si presenta molto bene in questa blusa ho pensato che vorrei anche io una uguale. Questa stoffa ha delle fibre elastiche. C'è un'altra che è elasticizzata e questa qui che è una bellissima fantasia floreale dai colori soft che si può abbinare qualsiasi cosa. Si potrebbe utilizzare per confezionare anche un abito. Poi abbiamo anche questo chiffon per le amanti del colore. C'è anche questo che è molto interessante solo che essendo trasparente bisognerebbe foderarlo o usarlo con un topping sotto. Ha una fantasia molto tranquilla con dei fiorilini tutti uguali. Abbiamo anche questo anitoni giallo verde che starebbe molto bene. Insomma questi sono alcuni tessuti che vi faccio vedere che possono andare bene per una confezionale al genere. E con questo io vi saluto ma voi scrivete i vostri commenti se vi è piaciuta la blusa. Volete che vi mostriamo i capi confezionati da noi che sembrano semplici ma non lo sono? Scrivete se volete vedere più spesso sul canale youtube i lavori fatti nel nostro atelier. Scrivetevi c'è le vostre opinioni, richieste e commenti e a noi fa molto piacere. Adesso vi saluto e vi ricordo che siete state sul canale youtube pratiche sartoriale alla moda e che voi sono stata io, Paushti, Olga e tutto il nostro team. Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace e commentate.